Un anno fa l'invito a Papa Francesco a partecipare alla perdonanza con la richiesta di un Vescovo ausiliare per la città da parte del Cardinale Giuseppe Petrocchi. A più di un anno la visita del Pontefice in realtà si è nel pieno dell'organizzazione. Così l'Arcivescovo dell'Aquila e il Cardinale Giuseppe Petrocchi. Quell'ausiliare, Monsignor Antonio D'Angelo e Don Claudio Tracanna hanno voluto tenere una conferenza stampa. Il 28 agosto Papa Francesco sarà all'Aquila per aprire la Porta Santa, ma anche per l'Angelus prima, che porterà la città dell'Aquila nel mondo e sarà capitale del perdono. Per l'occasione la diocese ha creato un logo, l'immagine del Papa accanto al rosone di Colle Maggio, ma c'è anche un sito creato ad hoc papafrancesco.l'Aquila.it. Il Papa visiterà il Duomo la mattina, entrerà dal restaurato Palazzo dell'Episcopio con un accesso agevolato. Per l'incontro con i familiari delle vittime saranno l'istituzione ad invitare i familiari in Piazza Duomo. Per ragioni organizzative ci saranno tre parenti stretti di una vittima del sisma per ogni famiglia. Il Papa sarà sulla sua papamobile in piazza prima di raggiungere Colle Maggio e con questa attraverserà il viale, probabilmente, così che la gente possa vederlo passare e partecipare alla visita. Il Centro Televisivo Vaticano sta organizzando anche vari momenti televisivi. Lui fa sempre una scelta di campo e lo ha detto. Gli ultimi non sono soltanto i periferici dal buon vista sociale. Gli ultimi sono quelli segnati dalla croce, che portano i segni delle piaghe della loro storia nella loro esistenza. Il Papa immediatamente viene attratto da queste figure e da queste storie. E se c'è un posto che il Papa vuole condividere è con l'ultimo degli ultimi. Ecco perché lui non ha avuto minimamente dubbio nello strutturare la giornata, oltre ovviamente ai momenti celebrativi, di dare la precedenza all'incontro con i familiari. È il primo incontro che fa, cioè appena arriva. Il Papa vuole incontrare la gente, ha detto Petrocchi. Si tratterà di coniugare partecipazione e sicurezza, ma la gente deve avere la possibilità di vedere il Papa ed entrarvi in contatto. Il perdono per l'arcivescovo Petrocchi è un evento profondo e alto sia nelle famiglie che tra stati, facendo riferimento alle guerre. E l'Aquila sarà la capitale del perdono, il significato autentico, quello più vero e non il folclore. Con l'Angelus la città sarà davvero al centro del mondo e Petrocchi lo ha ripetuto più volte. Il Papa, una volta entrato nella Porta Santa, sarà anche in venerazione davanti al masoleo di Celestino V. Petrocchi ha voluto ribadire anche un concetto, Celestino è il Papa della perdonanza e non altro. Qualcuno ha tentato di legare la visita di Papa Francesco a cose che non avverranno, in riferimento alle dimissioni che Papa Francesco ha già smentito. Papa ci ha tenuto a smentire in modo netto e energico e anche rapido questo tipo di ermeneutiche, di letture della situazione.